ciao raga come state spero bene nuovo video che grigio questa volta come sempre altronde questo video grigio non vuole essere nulla di che è solamente una terapia come dico sempre io per fare questi video e ci tenevo a dire che mi piacciono davvero tanto aspettate un secondo allora eccomi qua dunque ho preso il microfono così mi sentite meglio e oggi sono rientrata alla sono rientrata sì vabbè ciao no oggi sono andata alla maddalena e rientrata a casa pochi secondi fa ho anche mangiato molto bene non la maddalena ma qua a casa mia ovviamente ho mangiato un paio di patatine ritorno a casa mi ha comprato uno strudel molto buono uno strudel l'ho comprata la maddalena e all'inizio non mi faceva impazzire poi però assaggiandolo miglio mi è piaciuto davvero tanto quindi sono veramente contenta aver comprato uno strudel ero andata per il programma per un altro tipo di programma comprare delle scarpe per me acquisite per me invece ho comprato tutt'altro uno strudel vabbè lo stesso volevo comprare delle scarpe delle ballerine invece non è stato possibile però vabbè dettagli già quindi alla fine cosa ho detto o compro delle ballerine belle e comode con un poco di tacco con un pochino di sollevamento di tacco oppure non compro nulla invece no come ho visto qua che c'è in panetteria o pasticceria quello che è insomma ho comprato un bello strudel che è top buono 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 mi è piaciuto troppo piaciuto per dire perché quando l'ho visto con sol dire gli occhi mangiano prima della bocca perché voglio gli occhi a cuoricino quando ho visto come si soltira stellina per aver visto quello lo strudel una fettina di strudel preso e quindi top fenomenale mi piaciuto molto non è molto stucchevole una pena pena però mi è piaciuto e l'ho voluto comprare quindi top lo so quante volte di non so quanto volte dico top ma complimenti mi è piaciuto veramente tanto ciao e poi ho preso un caffè dopo aver mangiato le patatine ho avuto un bel bicchiere d'acqua si lo so voi non me ne può fregare meno ma io lo dico lo stesso no volevo fare un giro a maddalena portandomi con portandomi portandovi con me ma non è stato possibile perché c'era uno c'era troppo vento ma un vento fenomenale non era un vento fastidioso ma c'era troppa confusione anche della verità e quindi non me la son sentita e poi era un momento un po' non tanto bello perché era trafficata la strada di maddalena non dico che nelle vie non fosse trafficata ma non me la sentivo di riprendere di riprendere appunto da nessuna parte sì lo so mi è stato proposto parecchie volte fare un video a maddalena a volte lo faccio lo facevo ma cambiando negli anni più la andando più la negli anni non la vita cioè andando fino negli anni del mio canale non non sto riuscendo a fare più video blog come vorrei o li faccio questi video tipo qua come sono seduta qua a casa o se non devo fare per forza qua a palau perché qua a palau tanto anche se mi vedono o mi conoscono come maddalena maddalena mi conoscono ben poco però qui in qui a palau mi conoscono ancora di più quindi sanno che ho canale youtube anche qua forse anche a maddalena sapranno che ho canale youtube però preferisco più fare video a palau non lo so perché non mi ha scelta la mia o la mia appennione personale non lo so una mia sensazione più che altro e niente scusate se ho un microfono così ma all'inizio ero senza microfono ma ho deciso di volere il microfono a mettermelo perché si sente di più si capisce bene quello che dico soprattutto quindi da qui in avanti mi farò vedere che sto uscendo perché è vero non esco non esco sempre di casa ma quando esco non mi porto mai non vado mai con la telecamera in mano con il cellulare con la telecamera il cellulare in mano più che altro l'ascolto della buona musica ma non mi fermo mai soffermo mai a fare video quindi vorrei stare più tentata quasi quasi di continuare con dei video blog non solo caserecci ma anche sì del tipo quasi casereccio ma fatti fuori di casa perché qua dentro mi piace stare sempre a fare video ma li preferisco fatti anche fuori casa è più bello almeno mi vedete che non sto sempre in casa ma che sto anche fuori casa e passeggio con una bella giornata di sole e vento quello non cambia basta che esco non certo quando non certo quanto c'era pioggia ma almeno quando c'è tanto tanta bella giornata un bel sole che spacca le pietre non dico proprio solo che spacca le pietre ma quasi però wow fantastico quando c'è un bel sole che che ti illumina la mente dimenso però vabbè dettagli già niente oh scusate ho dato un colpo al cavalletto niente e quindi questo volevo dirvi che tutta questa bella giornata mi hanno comprato un bel pesce che ovviamente io non ho magnato perché non è polpo ma era tutt'altro non so se era onorata si mi sa che era onorata e l'altro era un altro tipo di pesce che io non conosco non me lo intendo tanto si vabbè me ne potrei intendere ma non non ho studiato all'albechiera di dei cuochi quindi vabbè io ho veramente dei titoli di studi molto diversi da quelli che voi non vi aspettate cioè non è che sono una cuoca mi piace cucinare quanto mi piace truccarmi ma non sono una cuoca proprio con i fiocchi assolutamente no io sono una cuoca scassissimo già ve lo dico sì il sugo lo faccio bene il minestrone altrettanto la pasta la carrettina la faccio altrettanto ma il resto non mi parlate di non lo so di altri tipi di cibo tipo l'insalata la so fare benissimo ma anche quando come si può dire sbuccio un cocomero che si chiama cetriolo cocomero non lo so sì cocomero lo faccio bene ma non benissimo ma non importa tanto prima o poi me lo devo mangiare ovviamente tanto poi averlo sbucciato lavato eccetera me lo devo mangiare ovviamente è giusto come sia sì perché la frutta va tutta lavata non è che la mangiate non lavate per niente si dico cose scontate ma bene ragazze perché io vedo che ho visto non so dove che non so se l'ho visto o se era solo una caricatura gente che non lava la frutta nella verdura sbagliatissimo qualsiasi cosa si deve mangiare bisogna prima la parla ovvio che se è già pronta non si lava ma se della cosa da cucinare a preparare si deve sempre lavare e ragazze dai non ditemi di no a parte che non sia la pasta forno o la pasta tanto no ma se allora no che scusate un minuto un automatico una mini frase di gallorese ma sono in gallura ragazze però non è italiano gallorese ma mi è venuto in mente il gallorese vabbè niente comunque a parte questo io mi sto dicendo che la pasta vabbè sono fatta a mano non c'è neanche bisogno di stare lì a fare niente però altri tipi di cose bisogna sempre lavare la frutta la verdura ovvio è ovvio l'insalata che ne so i pomodori l'uva tutto ciò che deriva dall'orto dall'orto la non bisogna lavarlo sempre odiano dai nostri orti fatti in casa quelli vanno sempre lavati esperto un attimo ragazzi che vi voglio mettere un po più vicini un attimo solo è già eccomi ragazze allora mi avete visto più vicina mi sono avvicinata e nulla quindi mi piace molto cucinare anche ballare scusate se passo da un argomento all'altro ma da un argomento all'altro ma ci tengo di parire che mi piace anche ballare tantissimo non posso ballare chissà quanto perché le mie ossa sono un po quelle che sono ma vabbè non volete raccontare troppo di me voglio raccontare solo dalle mie passioni perché quando racconto di me sapete bene che non va mai a finire bene ma vabbè dettagli uno di questi giorni vuole fare un FAQ cosa vuol dire una bot domanda e bot risposta per conoscervi un po meglio non so cosa riuscirà fuori ma non so se inventarmelo io questo FAQ o se cercarlo su internet io direi di farlo più inventarmelo più io poi se vi può piacere se vi interessa bene e se no vorrei dire che lo farò lo stesso perché mi diverto un botto a fare questo tipo di botte risposta alle domande che mi pongo io per rivelarle a voi di che tipo di persona potrei essere o che pensate che sia che potete pensare che sia io cioè come se mi conoscete meglio o peggio o se mi conoscete così di vista e niente poi più là ho promesso anzi poi mi prometto di farlo questi giorni ma non so quanto riesco a farlo perché ovviamente sono sempre impegnata la notte non sono impegnata perché dormo ovviamente però il giorno dovrei fare il giorno questa skin care ma potrei fare anche alla sera mentre vado a dormire ma tante volte mi guardo il video e poi mi dimentico la skin care perché faccio una cosa così cioè al volo quindi è poca la skin care quello che faccio potrei fare benissimo la skin care tipo mi lavò il viso me la detergo uso il detergente la cremina a contorno che mi sto usando zero perché ragazzi non è stato proprio devo essere sincera con voi il contorno occhi non lo sto utilizzando mentre per quanto riguarda la crema ne sto usando un bel po maschere proprio non mi vengono non mi fanno impazzire ce le dovrei usare perché mi fanno bene alla pelle oltre che bere molta acqua e mangiare quella poca frutta che io mangio che io mangio dovrei bere tanta acqua la sto e lo sto facendo assolutamente si bere molta acqua mentre per quanto riguarda invece non lo so per mangiare molta frutta dovrei fare uno smoothing tipo uno smoothing di acqua e frutta tipo una sorta di frullato con frutta o verdura non lo so ci devo provare non ne ho idea non sarò che si può piacere sicuramente non ne ho idea oppure potrei fare un frullato di banana con latte anche quello può essere un'ottima idea alternativa alla frutta che non mangio non lo so si vedrà frutta allora tipo frutta banana latte e fragola o quella solo l'estate la trovi la fragola c'è poco da dire da girarsi intorno e sì direi proprio di sì poi cos'altro c'è non lo so ragazzi c'è tanti tipi di frutta si possono mangiare tipo la vabbè la pesca la trovi anche lì d'estate la banana con la mela non lo so non ne ho idea poi cos'altro c'è eccoDI a parte chi usa parentesi aperte che usa parentesi della frutta della verdura gelato mia preferita del pistacchio oppure al caffè anche a me piace molto il caffè quindi adoro il caffè non credevo che esistesse il gelato al caffè ma invece è una cultura propria l'ho scoperto non perché ho scoperto l'acqua calda come mi direste voi ma perché ho scoperto che il gelato al caffè è buono si lo so anche nel magnum è buono ma a me piace anche il gelato al caffè il pistacchio è una cultura unica faccio questi occhi un po dolcini perché quando parlo di gelato che cosa buona già poi outfit outfit oggi sono vestito non ho più quella maglia solo di lana lana fuori e cotone dentro ma anche questa camicciola qua questa camicia col pizzo sopra non so se si vede il pizzo vedete questo è il pizzo e questo è tutta la camicia con questo fiocchetto che ho al torno mio attorno al mio collo vedete questo qui è il coso si chiama aiuto sì vabbè avete capito il fiocchetto della camicia eccolo qua si vede sì mentre questo è il pizzo queste sono le maniche più o meno a sbuffo mi piacciono davvero tanto sì ho anche le unghie belle fatte non so se avete notato ma mi piacciono tanto adoro queste unghie fatte vedete già e niente ragazze mie poi cos'altro dirvi come scarpe non ho portato più le like ma sto portando le stivali nere 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 di embal soft mentre aspettate un attimo allora scusate dunque come a tweet stavo dicendo embal soft stivali neri neri come la notte hanno un po di scamoscio all'interno del dello stivale stesso e questo stivale è di là non so non non si vede niente aspettate un attimo che mi giro un po la telecamera li vedete si sono lì proprio quel puntino nero che vedete lì e niente quindi questo era quanto come borsa ne ho portato una posta stracciona la quale a volte sono io ma vabbè dettagli è inerente invece al trucco oggi ho fatto questo trucco che vuoi fare un po non so che non mi piace però mi piace poi direte ma si è bello insomma voi non piacerà tanto lo so che mi dite che non mi piace questo il trucco questo qui è proprio il trucco l'ho fatto un po tipo non dico smoking ma quasi correttore terra blush e va bene così tutto il resto era un rossetto allora ho usato il 156 di brochet scusate ho pulito al naso non so non si può vedere una sigaretta del naso ma prendetemi per come sono vabbè meglio è poco che mi vuole su youtube questo è poco ma sicuro no mi riferisco alle solite polimiche che si fanno qua su youtube ma che me ne frega a me preferisco vivere e lasciar vivere comunque a parte questo io c'ho blush terra e correttore non ho messo fondotinta perché la dopo un po l'aspetto si l'aspetto cosa sto dicendo la pelle mi sputa fuori tanto sudore quindi cosa ho detto se devo sudare come un maiale preferisco non mettere fondotinta ma bensì il correttore e dal correttore ho messo un po di terra blush e mascara e un po di questo ombretto che vedete qui vedete non ho messo il liner solo mascara poi ho rifatto un po le mie belle sopracciglia rifatto lo so non sono bellissime ma mi piacciono a me così io mi sento più a mio agio come le faccio io e va bene così per me già non le ragazze la borsa non ve la faccio vedere tanto è sempre la stessa non è quella che ho comprato dai cinesi perché l'ho sostituita con un'altra ancora ovvero con uno che avete visto migliaia di volte in altri video che al tipo simbolo di sephora e si ragazze e la sto guardando perché lì seduta seduta sì ciao e lì appoggiata e lì appoggiata sulla sedia non rido perché mi viene da ridere come parlo tante volte mi viene da ridere come parlo allora vi dicevo lì appoggiata sulla sedia dove io mi metto tante volte a fare video contro luce e contro luce video non si vedono granché bene ecco perché vi dicevo il video non si vedono bene perché contro luce non si vedono granché bene quindi ecco perché tante volte mi tocca mettermi qua sopra il lampadario sotto al lampadario allora già vi ho avverto che la ring light non non si accende più oppure se si accende sembra che abbiamo i fantasmi in casa quando che gli sba non c'è neanche l'ombra quindi niente tanto per dirvi che funziona e non funziona come non averla infatti la ring light ce l'ho ma tanto per e comunque preferisco avere questo aggeggio qua che mi tiene il telefono che non avere nulla per temi telefono perché ho né un cavalletto a tavolo e questo qui dove siete dove ho appoggiato telefono qui da da terra per farmi dei bei video bei video tanto per dire perché potrei anche uscire fammi delle belle dei video si video blog fatti bene fatti bene si può per dire perché mi riprendo solo io ma non faccio vedere dove vado perché potrei dire anche dove vado però voglio evitare fatti evito li faccio sempre in casa ma no io non so perché mi faccio queste cavolo di pippe mentali per andare in giro a fare cosa video blog va benissimo le vado voli voglio farli faccio però che ho paura che la gente mi devo a dire sempre qualcosa che non piace e io me le infischio altamente perché giusto così ragazze infischiate quando guarda male se per strada state bloggando fregatevene altamente che è giusto così perché più noi facciamoci aiuto ci facciamo gli affari degli altri o gli altri si fanno gli affari nostri più non viviamo più quindi fate quello che fa star bene come dicevano youtuber tipo paola gattaluna kimono blu e viveremo meglio perché non farsi gli affari nostri che è meglio cerchiamo di facci perché come si dice un gergo romano un detto romano dice praticamente fatti gli affari tuoi che campi cent'anni ed è vero è proprio vero lo ammetto anche io basta ragazzi questo era tutto io vi saluto grazie ancora per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze apposto un bacio apposto per dire perché tanto leppone per un altro se vi riesce ciao un bacio vi voglio bene buon presentamento di serata giornata come guardate voi dipende quando quando vedrete sto video ciao un bacio ciao 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 vi voglio bene ciao